E' stato trovato morto in una pozza di sangue vicino ad una panchina, a due passi dall'ingresso del centro commerciale di articoli sportivi Decathlon di Monte Corvino Pugliano. Si tratta di un marocchino, 35 anni, identificato dai carabinieri dopo un'accurata indagine, visto che addosso non aveva documenti. E' stato colpito varie volte, su molte parti del corpo, probabilmente con i cocci di vetro di una bottiglia. L'uomo, senza fissa dimora, con precedenti a carico, notoriamente era dedito all'uso smodato di alcolici. Questo a quanto emerso dalle prime indagini dei carabinieri della compagnia di Battipaglia agli ordini del capitano Eric Fasolino, che stanno proseguendo per appurare il responsabile o i responsabili della colluttazione sfociata poi in tragedia. A coordinare le stesse indagini, il sostituto procuratore di Salerno, Pater Noster. Si sarebbe sulle tracce di un extracomunitario che potrebbe essere l'assassino e che sarebbe tra l'altro già stato individuato, ma non attraverso le immagini delle telecamere del sistema di videoserveglianza che, pur numerose presenti sul posto, sono risultate essere non funzionanti oppure che non hanno registrato nulla dell'accaduto. Momenti di panico, ieri pomeriggio tra la gente che si era recata nel maxistore sportivo di Monte Corvino. Subito sono state allertate le guardie del centro commerciale che a loro volta hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto anche i carabinieri della sezione scientifica del nucleo investigativo di Salerno. Inutile invece la presenza dei sanitari e alcuni volontari che hanno potuto appurare soltanto il decesso del marocchino. A quanto pare l'uomo ammazzato avrebbe cercato di evitare il peggio scappando dal suo aggressore, ma la ferita alla gola non gli ha lasciato scampo e la sua corsa si è conclusa drammaticamente nei pressi di un chioschetto all'esterno del Decathlon.